Un saluto da Ede Software e bentornati alla serie dedicata agli elementi costruttivi storici e monumentali. In questo video vedremo come modellare ed analizzare una volta a crociera. La struttura che prendiamo come esempio è costituita da quattro muri perimetrali disposti su una pianta rettangolare. Sui lati corti della struttura sono presenti due aperture ad arco, mentre sui lati lunghi abbiamo due aperture rettangolari. Da questa immagine, che rappresenta una sezione 3D della struttura, notiamo come la volta a crociera verrà modellata con due archi, che rappresentano gli archi diagonali, e quattro solai a cui verrà assegnato il peso proprio delle vele ed eventuali altri carichi agenti sulla superficie della volta. Ma passiamo subito alla modellazione. Inseriamo un disegno in DXF che utilizzeremo come riferimento. Lo selezioniamo e lo blocchiamo, in modo che non sia possibile eliminarlo inadvertitamente. A questo punto selezioniamo il piano 1 e andiamo ad impostare un'altezza pari a 7,5 m e a disattivare il contributo del vento in tutte le direzioni. Bene, procediamo con l'inserimento del primo muro. Clicchiamo sul punto iniziale e prima di proseguire andiamo ad impostare l'allineamento a destra e lo spessore di 1 m. Ora clicchiamo sul punto finale e ripetiamo l'operazione per gli altri muri. A questo punto attiviamo la finestra 3D per verificare la modellazione. Possiamo proseguire con l'inserimento delle aperture. Sfruttiamo gli snap offerti dal disegno DXF e andiamo ad inserire le quattro aperture sui quattro lati. Ora selezioniamo le aperture sui lati lunghi e per queste andiamo ad impostare un'altezza pari a 4 m. Per quanto riguarda invece le aperture sui lati corti andiamo a definire un'altezza di 6 m, la forma ad arco e scegliamo la freccia pari a 3 m in modo che l'arco si imposti ad una quota di 3 m. Scegliamo la modellazione blocchi e aggiunti, ma poi vedremo anche un modello con modellazione solo blocchi e agiamo sulla proprietà lunghezza blocchi per modificare il passo dei blocchi. In questo caso proviamo con una lunghezza pari a 1 m. Con questa lunghezza notiamo che la chiave dell'arco è costituita da un giunto di malta. Vogliamo invece avere un blocco in chiave, quindi modifichiamo leggermente la lunghezza provando con 1.1. Bene, in questo modo la chiave dell'arco è caratterizzata da un blocco e lasciamo la proprietà dello spessore dei giunti pari a 10 mm. Prima di proseguire ci portiamo nella finestra dei materiali per vedere quali sono le proprietà dei materiali utilizzati. In questo caso utilizziamo la muratura esistente con una tipologia blocchi lapide e squadrati e valori medi dei moduli elastici e delle resistenze. Per quanto riguarda invece il materiale abbinato agli archi abbiamo un materiale blocchi aggiunti per il quale abbiamo lasciato le proprietà di default tranne impostare una resistenza a trazione dei giunti pari a 0,2 Nm2. Bene, procediamo inserendo gli archi diagonali della volta crociera. Scegliamo il comando arco. Nella definizione del punto iniziale ricordiamo che la linea di riferimento dell'arco si riferisce alla luce netta, quindi scegliamo questo vertice come punto iniziale e questo qui in basso come punto finale dell'arco. Ripetiamo la stessa operazione per l'altro arco diagonale. Ora selezioniamo i due archi appena inseriti e andiamo a definire un'altezza di imposta pari a 3 metri, in modo che sia uguale a quella degli archi perimetrali, ed una freccia di 3,5 metri, leggermente superiore a quella degli archi perimetrali. Definiamo un raggio di raccordo pari a 2 metri. Si tratta di archi ribassati e riteniamo che un raggio di raccordo pari a 2 metri approssimi bene la reale forma della struttura. Lasciamo spessore e profondità pari a 0,5. Scegliamo modellazione blocchi e giunti, impostiamo la lunghezza dei blocchi pari a 1 metro e lasciamo lo spessore dei giunti pari a 10 mm. Definiamo un rinfianco per l'arco con materiale muratura esistente e con il valore di profondità pari alla profondità dell'arco, quindi 0,5. Per la definizione delle vele della volta crociera inseriremo dei solai nei 4 spicchi risultanti dalla modellazione. Scegliamo il comando solaio e clicchiamo all'interno di quest'area definita dagli archi diagonali e dal muro perimetrale. Ripetiamo l'operazione per gli altri spicchi. A questo punto selezioniamo i 4 solai inseriti e definiamo un materiale muratura esistente. Andiamo a definire un carico permanente pari a 4 kN al metro quadro. questo rappresenta il peso proprio delle vele. Un carico permanente non strutturale pari a 1 kN al metro quadro e 2 kN al metro quadro di carico variabile associato alla condizione di carico elementare variabile categoria A. Per tutti questi solai non vogliamo definire una direzione principale ma vogliamo che il carico venga scaricato uniformemente su tutte le aste di contorno. Quindi attiviamo il comportamento a piastra. Bene, fatto questo siamo pronti per la creazione del modello strutturale. Una volta creato il modello strutturale possiamo esaminare come avvenga il collegamento tra gli archi diagonali e le strutture perimetrali. Per avere una visione più chiara andiamo a disattivare la visualizzazione di nodi e solai, passiamo alla visualizzazione per superfici e disattiviamo il link degli archi. Spostiamoci in una zona di imposta e notiamo che il nodo di imposta dell'arco diagonale è stato ricollegato ai due maschi dei muri perimetrali per mezzo dei due link rigidi selezionati. Da cosa dipende la diversa configurazione dei due link rigidi? Beh, dipende dalla suddivisione dei maschi con cui si ricollegano. Per quanto riguarda il caso a destra, notiamo che il maschio è stato spezzato per offrire l'imposta ad uno degli archi perimetrali ed è quindi a disposizione un nodo alla stessa quota del nodo di imposta dell'arco diagonale con cui effettuare un link rigido. Per quanto riguarda invece il maschio a sinistra, questo non è stato soggetto a nessuna suddivisione, per cui il programma ricollega il suo nodo di sommità con il nodo di imposta dell'arco diagonale. È interessante notare che i due link in questione sono editabili, possono quindi essere eliminati e sostituiti con dei nuovi link che a seconda dei casi possano ritenersi più opportuni. Vediamo però cosa ha scatenato la creazione di questi due link. Per farlo dobbiamo portarci nel disegno in pianta. Notiamo che l'impronta dell'imposta dell'arco, questa zona tratteggiata, trova intersezione con le impronte dei due muri perimetrali. Questa situazione scatena la creazione dei link tra il nodo di imposta dell'arco diagonale e le strutture provenienti dalla modellazione di questi due muri perimetrali. In questo caso i due maschi a cui facevamo riferimento prima. Bene, a questo punto selezioniamo il livello 1 e disattiviamo la rigidezza lungo X e lungo Y. Ci portiamo nella finestra dei parametri di calcolo e scegliamo di eseguire l'analisi statica lineare non sismica e l'analisi pushover con lo scopo di individuare il moltiplicatore di collasso della struttura. Per quanto riguarda l'analisi pushover scegliamo un taglio incrementale di 30 kN, la distribuzione B unimodale, quindi forze corrispondenti al primo modo di vibrare, e le direzioni più X e più Y. Confermiamo e eseguiamo l'analisi. Dai risultati dell'analisi modale si evince che il periodo fondamentale della struttura in direzione Y è di 0.295 secondi, mentre in direzione X abbiamo un periodo di 0.123 secondi. Questo dimostra che la struttura è più rigida in direzione X. Passiamo ora all'analisi statica non sismica, dove possiamo apprezzare la posizione della curva delle pressioni negli archi diagonali e perimetrali. Notiamo che per quanto riguarda gli archi diagonali la curva delle pressioni si mantiene all'interno della sezione, mentre fuoriesce notevolmente per quanto riguarda gli archi perimetrali. Passiamo ora all'analisi statica non lineare. Notiamo subito che negli archi perimetrali la curva delle pressioni risulta molto più vicina alla linea d'estradosso dell'arco. Questo è dovuto all'analisi di gravità iterativa che viene svolta al primo passo della curva pushover. Quest'analisi ricerca una configurazione staticamente ammissibile per l'arco e lo fa agendo sui vincoli dei giunti. In questo caso la configurazione corrisponde all'apertura di una cerniera in prossimità della chiave. Il colore rosso associato alle strisce nella verifica pressoflessione con planare è dovuto alla mancanza di un elemento resistente a trazione come ad esempio un architrave. Per lo scopo di questo video non approfondiamo il reale comportamento della striscia e accettiamo che venga degradata a biella e continui a svolgere la funzione di accoppiamento tra i due maschi adiacenti. Scorrendo i vari passi dell'analisi pushover possiamo vedere come avvenga la plasticizzazione nelle pareti e in quali punti si formino le cerniere negli archi. Arriviamo all'ultimo punto e notiamo che una cerniera si è formata all'intradosso in prossimità della chiave negli archi perimetrali e un'altra cerniera viene a crearsi in prossimità delle reni all'intradosso per gli archi diagonali. Questa situazione corrisponde ad una forza massima di 1291 kN e ad un moltiplicatore di collasso di 0.330. Passiamo ora alla situazione in direzione Y. In questo caso la struttura si ferma ad una forza massima di 556 kN che corrisponde ad un moltiplicatore di collasso di 0.142. Ritornando nel modello possiamo vedere dove si siano formate le cerniere. Negli archi perimetrali notiamo una cerniera in questa posizione all'estradosso e in questa posizione all'intradosso. Mentre negli archi diagonali notiamo una formazione di cerniera all'estradosso in prossimità della chiave e all'intradosso in prossimità delle reni. E' facile quindi visualizzare quale sia il meccanismo di collasso della struttura. Bene, a questo punto apriamo un file dello stesso modello in cui gli archi sono stati modellati con soli blocchi e vedremo le differenze tra le due modellazioni. In questo modello in cui gli archi sono stati modellati con soli blocchi la struttura presenta un periodo fondamentale in direzione Y di 0.284 contro 0.295 della modellazione blocchi aggiunti. In direzione X il periodo è 0.122 contro 0.123 della modellazione blocchi aggiunti. Quindi abbiamo valori molto simili. Passiamo all'analisi statica non lineare. Esaminiamo la curva B più X e portiamoci subito all'ultimo passo della curva pushover. Notiamo che la struttura ha una forza massima di 1314 kN contro i 1292 del modello precedente, il che corrisponde a un moltiplicatore di collasso di 0.336, mentre nella modellazione blocchi aggiunti avevamo 0.330. Anche in questo caso valori molto vicini. Dalla verifica dei blocchi possiamo notare che le cerniere si formano nelle stesse posizioni in cui si formavano nella modellazione blocchi aggiunti, cioè in chiave per i due archi perimetrali e alle reni per quanto riguarda i due archi diagonali. Passiamo ora alla curva B più Y. Anche in questo caso abbiamo ottenuto un valore della forza massima molto vicino, in quanto è pari a 551 kN contro i 557 della modellazione blocchi aggiunti. E anche la posizione delle cerniere è praticamente uguale a quella che avevamo con la modellazione precedente. Questo dimostra la validità di questa modellazione, che si presenta come una valida alternativa alla modellazione blocchi aggiunti, individuando il corretto meccanismo di collasso e il moltiplicatore di collasso con un ridotto numero di aste. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video.